E' una bella giornata sia di sole, relativo, e sia una bella giornata di partecipazione. Mi pare che l'afflusso ai seggi sia abbastanza buono, almeno in queste prime due ore. L'appello è di intensificare, di dedicare questa oretta e mezza per andare a esercitare un diritto di partecipazione e dare a chiunque sarà il candidato del centro-sinistra una grande forza per poter riprendere un lavoro duro che ci aspetta nei prossimi mesi.